ciao a tutti amici della vergine benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami vergine tendenze energetiche affettive per la quale prendo torre ragazzi e sacerdotessa ragazzi per la seconda parte di settembre vi renderete conto di cose che prima non vedevate quando c'è la carta della torre allora la carta della sacerdotessa vi dice che vedrete oltre e la carta della torre vi dice che proprio perché vedrete oltre certe sicurezze certe certezze certe questioni egoiche probabilmente potrebbero proprio cascare cadere potrebbe un po cadervi un mito se fosse per esempio una persona o una situazione anche perché no andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi come sempre vi ricordo che le letture sono generiche sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete integrare con ascendente segno lunare o venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella playlist nella playlist scusate nella descrizione del video è sempre nella descrizione del video trovate la mia email che ho scritto anche qui e che trovate anche nelle informazioni del canale bene andiamo a vedere abbiamo un re di pentacoli un 5 di coppe un 8 di pentacoli 2 di spade 10 di spade e 4 di pentacoli un asso di spade e la carta della forza ragazzi qui vi dico subito che prenderete consapevolezza di qualche cosa di aver perso qualche occasione probabilmente con questo re di pentacoli che per qualcuno rappresenta un padre per qualcun altro rappresenta la persona di interesse come se vi rendiate conto di qualche cosa inerente non so perché ma alla vostra indipendenza non ho nessuna carta che mi parla di questa cosa qua ma sento che è inerente la vostra indipendenza andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta ripartiamo dal re di pentacoli ruota della fortuna ruota della fortuna sette di pentacoli e fante di bastoni allora qui ci può essere stato qualche cosa a livello concreto con questa persona qualche cosa qualche dinamica diciamo così che è cambiata con la ruota della fortuna è strano perché ho due carte di azione e una di pazienza andiamo avanti vediamo 5 di 10 di coppe la luna asso di bastoni e carro dunque ragazzi come la sensazione che potrebbe essere questo re di pentacoli qualcuno che vi tenta ho anche questa sensazione ma che per paura di perdere quello che avete già consolidato fondamentalmente non farete granché nei confronti di questa persona andiamo a vedere l'otto di pentacoli sacerdotessa nuovamente e sole ragazzi e sento di nuovo quel discorso che facevo prima del c'è bisogno di migliorare il proprio potere personale per riuscire a superare questo 2 di spade che comunque una carta di video qui con il sole c'è bisogno di potenziare secondo me quello che è la vostra quotidianità l'otto di pentacoli normalmente una carta che parla di lavoro è una carta che parla di costanza è una carta che parla di qualcuno che è minuzioso è preciso si è costante in quello che fa è una crescita costante andiamo a vedere qual è il dubbio 3 di bastone 7 di spade abbiamo il mago abbiamo di nuovo la torre abbiamo la temperanza e quindi è rimasto questo 10 di spade 10 di spade torre torre qui ragazzi in dubbio e se chiudere qualche tipo di situazione oppure no perché ho come l'idea che qualcuno realizzerà che il partner o la partner non ha intenzione di avere figli ragazzi o come questa sensazione qui scoprirete qualche cosa veramente che vi è stato nascosto per tanto tempo qualcosa che scusate non le vedete più qualcosa che in qualche modo ha bisogno di guarire è come se il progetto su cui stavate lavorando su cui avevate riposto tanto sforzo tanta dedizione è come se ad un certo punto crollasse perché non è in equilibrio andiamo a vedere il 10 di spade morte e giudizio il contrario ragazzi qui è qualcuno che non vuole vedere potreste essere voi che non volete vedere la realtà dei fatti perché magari vi siete costruiti un'idea di famiglia di unione stabile e invece poi realizzare che quest'unione non è poi così in equilibrio che vi sono state nascoste delle cose che ci sono delle questioni che appunto vanno riequilibrate tenete presente che il 10 di spade molte volte fa anche negli arcani tradizionali la persona è girata di spalle, di schiena ha 10 spade sulla schiena ed è come essere pugnalati alle spalle è come se qualcuno, ma qui c'è un 7 di spade qui verrete a scoprire qualche cosa secondo me è di pesante perché poi per far arrivare la torre c'è anche poi la morte guardate, vi confesso che non è un periodo semplice ma il karma, qualche cosa a livello karmico potrebbe cambiare qui abbiamo il 10 qui, abbiamo il 10 qui, abbiamo un 10 qui, abbiamo un 10 qui c'è un asso, quindi anche la morte non è un 10 però comunque è la fine di un periodo, di un percorso, di un'abitudine, di un qualche cosa per permetterci di rinascere ma finché non si effettua questa morte finché non c'è questa caduta dell'ego è impossibile avere, ragazzi quel tipo di consapevolezza globale mi viene da dire perché quando c'è la carta del giudizio non si accende una lampadina si accende proprio un lampadario qualche cosa che, pum, illumina ah, ecco perché è andata così ho capito tutto ecco perché mi è capitata quella persona nella mia vita anche se ho sofferto tanto però mi è reso una persona migliore devo vedere il 4 di pentacoli perché c'è ancora qualche cosa a cui voi vi attaccate è di nuovo 4 di pentacoli e 3 di coppe ragazzi qui c'è un attaccamento o un'amicizia o una persona vi dico che potrebbe essere potrebbe essere una terza persona ok cioè o meglio se siete voi la terza persona è un po' come sono troppo attaccato o attaccata a quello che ho per lasciarlo andare piuttosto non faccio morire il mio ego ok mi accontento delle briciole resto lì fermo immobile con quelle 4 monete però non mi sposto sì ma è solo che dovete prendere consapevolezza una volta che si gira il giudizio testa in su vedrete che non sarete più disposti ad accettare situazioni che vi fanno star male di fatti terminiamo con un bellissimo asso di spade l'asso di spade è una verità che viene a galle qualcuno che dice ok sai che c'è e mi vorrebbe da dire basta perché la carta della forza è sempre una carta che ci indica che troverete la forza di volontà per dire questa verità per fare questa scelta per tagliare la relazione o la situazione che non vi serve più andiamo a vederlo questo asso di spade due di pentacoli di nuovo si parla di ciclicarmici e quattro di bastoni allora per qualcuno come il messaggio di mettetelo o mettetela alle strette il messaggio è stato proprio mettilo alle strette per qualcun altro qui si tratta di ragazzi prendere una decisione semplicemente e comunicarla avrete troverete in qualche modo il coraggio di farlo non vi preoccupate però guardate poi terminiamo con un quattro di bastoni che è una carta di stabilità è una carta anche di unione però principalmente una carta di stabilità di sicurezza ok andiamo a vedere ancora una carta delle fatine vediamo cosa riesco a dirvi vi confesso che si insomma sarà un periodo impegnativo però guardate quello che mi dico io quando affronto periodi un po' così impegnativi piuttosto che cupi è che è questione di tempo l'energia cambia non si può essere felici sempre e non si può essere tristi sempre quindi datevi solo il tempo di vivere questi 15 giorni guardate è una carta che fa riferimento al bambino interiore qui sento che avete bisogno di fare un lavoro e lavorare sulla vostra capacità percettiva sulla vostra capacità femminile di canalizzare uomini o donne che siate di canalizzare le informazioni del vostro se superiore tenete presente che quando c'è la sacerdotessa può anche essere utile far particolarmente attenzione ai sogni ragazzi perché è collegata col subconscio e qui vi dice fondamentalmente di iniziare a giocare di iniziare ad essere anche un pochettino più leggeri e vi consigliano di fare qualche cosa di divertente qualche cosa di stimolante per voi qualche cosa che nutra il vostro bambino interiore sì è un po' come se doveste bilanciare questo periodo un po' cupo quindi fate qualche cosa che riempia il cuore la gioia è l'espressione del meridiano di cuore quindi è un po' come nutrire il cuore con la gioia con l'allegria con la felicità cercate di circondarvi di gente che vi faccia ridere che vi faccia star bene soprattutto quando siamo in periodi come quello centrale di settembre che ragazzi non vi nego che sarà impegnativo bene amici della vergine questo è quello che avevo per voi fatemi sapere come vi risuona nei commenti se comunque la stesa vi è stata utile potete mettere like iscrivervi condividere se avete piacere potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale ci tengo a fare una piccola precisazione il percorso di crescita che io sto proponendo individualmente è un percorso basato sul lavorare le credenze limitanti ma è solo una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti ok questo per una mancanza di tempo quindi ho deciso di appunto spiegare certe cose attraverso i video degli abbonamenti bene detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao